L'Aquila compare su tutti i gradi, dall'agente al dirigente generale che è il vertice della nostra amministrazione, simbolo che per la prima volta è comparso nel 1919 nel corpo delle guardie di regia pubblica sicurezza e che riafferma la nostra identità. L'Aquila, emblema dell'istituzione e segno della lotta e della vittoria sul male, sulle divise di 98.000 agenti in tutta Italia e anche ad Arezzo da oggi debuttano i nuovi distintivi della Polizia di Stato disegnati da un esperto di Araldica, il professor Michele D'Andrea. Per noi è una giornata epocale perché si conclude un processo iniziato nel 1981 con la nuova legge di riforma transitato nel 2017 con la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e si conclude con questa nuova simbologia che prevede i nuovi distintivi di qualifica per tutto il personale della Polizia di Stato che da questa mattina alle ore 7 indossa appunto i nuovi distintivi di qualifica. Dunque sulle divise della Polizia di Stato da oggi nuovi emblemi, uguali per tutti i ruoli, differenziano le funzioni tecnico-scientifiche, tecniche e le attività professionali attraverso il diverso colore delle mostreggiature. Sono cambiati perché ci si discosta dal mondo militare, non per questo non lo guardiamo ovviamente con il grande rispetto, ma vanno a riaffermare l'anima civile perché la nostra è un'amministrazione civile e ordinamento speciale e ognuno, ogni ruolo ha un segno preponderante che è quello specifico appunto del ruolo per gli assistenti e agenti il plinto, per i sovrintendenti il rombo, per gli ispettori il pentagono e per i funzionari le formelle che ricordano il quadrilobo del Ghiberti.